Nella puntata precedente di Chip Bazaar, Richard e Tommy decidono di andare in vacanza fuori città. Le vacanze sono finite e stanno per tornare a casa. Ma cosa troveranno ora? Ma c'è una strana atmosfera. Questa città mi sembra diversa, anche queste strade. Non riesco a capire, sarà forse una mia sensazione. Comunque già mi trovo da queste parti. Vado a salutare il mio maestro, Bean Benzin. Salve! Maestro? Ehi maestro, buonasera. Volevo sapere come sono andate le vacanze, tutto a posto? Maestro ha una strana cera. Maestro, ma che io ho fatto? Facciamo una cosa, vengo in un secondo momento, eh? Ora lo vedo un po' frettoloso. Non credo che sia ora il momento di fare una lezione di arti marziali. Non crede? Maestro vado via, ok? Lo vedo tutto in fretta e furios. Fammi andare via, 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 via. Ma cosa è successo al maestro? Non l'ho mai visto così. Non mi sembra neanche più umano. Richard, ti ho trovato! Oh, Tommy, che ci fai da queste parti? Richard, qui la situazione è seria. Guarda che non è come sembra. Che senso? Non riesco a capirti. Cosa vuoi dire? Calmati! Richard, sono tornato a casa tra i miei nonni. E non erano più umani. E ora sono diversi. Non riesco a capire. Sembra quasi che volevano mangiarmi. Che cosa vuoi dire? Qui la gente non è più come prima. Sono tutti degli zombie. Impossibile, Tommy, ma che dici? Guarda, eccoli. Spero che abbiano proprio brutte intenzioni. Guarda, ho un'idea. E Tommy, leggimi il gioco. Che cosa vuoi fare? Ci provo. E voi zombie? Come siete belli, zombie. Più o meno. Ascoltatemi tutti. Cosa ne dite di fare un bel gioco? Il gioco dello zoo. Beh, visto che siamo molti. Tu fai il leone, tu fai la tigre, tu fai il tacchino, Tu fai la gallina, ok? Organizzatevi un po' tutti. Dai, dai. Allora, seguitemi tutti. Quando poi io dico allo zoo, tutti fanno gli animali insieme, eh? E poi, mi chiamerò uno per uno. Mi raccomando, eh? Allo zoo. C'è il leone. E allo zoo. C'è la tigre. Bravi, bravi, bravi. Così mi piace, però... Un po' più di vita, un po' più di vita. Ma che vado a dire? Vabbè, continuiamo. E allo zoo. C'è il tacchino. C'è il tacchino. Oh, il tacchino. Fate una cosa, eh? Mettetevi d'accordo tra di voi. E vediamo un po' chi è il tacchino, ok? E qua andiamo, andiamo. Ora è il momento giusto. Scusate, chi è che facevo il tacchino? Ma come cavolo ti è venuto in mente? Come sapevi che si distraevano così? Guarda, ti dico la verità. Lo sapevo neanch'io. Non posso crederci. Qui l'unica cosa che possiamo fare è andare alla polizia. Sì, ok, però dobbiamo prendere un'auto. L'auto si trova là. Andiamo. Mi sembra una vera e propria popolizia. Già, non dirmelo. Taga! Wow! Ma chi è quest'altra? Sono il nome di Cazzandello. Candiamo tutti insieme una canzone. Ecco fatto. Anche se sei una femmina, sei sempre una zombie. E sinceramente, non la sopportavo più. Richard, attento! Wow! Mamma mia! Ma come guidi? Quella zombie mi ha distratto! Che botta! Eh? Sento un gazzone di un camion. Ma chi è? Sono la rea di ghiaccio e a dischiaccio. Oh! No! Ma è pazzesco. Non posso crederci. Richard, ma cos'hai? Ai 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 ai. Sono andato a finire con gli zepetella. Aspetta un attimo. Ora ti scuoto. Ti senti meglio? Oh, che botta. E tu, dai che ce la fai. Dai che ce la fai. E questo chi? Ce lo puoi fare. Dai! Dai che ce la fai. Tommy, ma... Mi sbaglio o è proprio lui? Già. Non so cosa ci fa da queste parti. E' diventato uno zombie. E' diventato Gianni Zombandi. Oh, questo mi è piaciuto. Se non ce la fai, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Ce l'ho io il latte. Lo vuoi il latte? Tieni il latte. Tieni il latte. Io. Ma dove l'ha preso? Tieni il latte. Tieni il latte. Ma dove l'ha preso tutto questo latte? Questo anche è diventato fatto. Andiamo via. Facciamo presto. E' uno scherzo. E' un scherzo. E' roba da matti. Roba da matti. Se non ce la fai a correre vuoi volare. E puoi volare. E puoi volare. Anche questi. Sì, 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 sì. Sei diventato un zomba, sì. Ah, ora dai nomi anche tu, eh. Beh, uno per ciascuno. Non lo fa male a nessuno, no? Vuoi volare. Tieni. Wow, che è? Il dito di Superman. No, è che lui è uno sticchino. Non l'ha visto. Se no pesa 40 kg. Siamo arrivati alla stazione di polizia. Eccola. Speriamo che troviamo qualcuno. Ehi, guarda, lì c'è qualcuno. Ehi tu, scusami. Abbiamo bisogno di aiuto. Hanno cambiato lo stesso. Eh? Volevamo solo un aiuto. Volevamo sapere cosa è successo. Noi ci vendicheremo. Lo giuro su Dio. Sì, ok. Hanno cambiato lo stesso. Noi cittadini. Ci vendicheremo. Lo giuro. Io non riesco a capire. O sono matti o sono zombie. Andiamo via. Qui non c'è nessuno. Questa situazione mi sta mandando ai pazzi. Qui o sono matti o sono zombie. Non c'è più la polizia. Cosa possiamo fare? Io non ne ho la più palle d'idea. Psss. Uè, vai giù. Vieni d'acca. Eh? Ma vi aiuti in me. Ma lascia giù le tasche. Sì, sì. Sì, sì, vieni mi. Ma chi sei? Ma faccio chiamare... Zen. Sì, sì. E io sono... Simon Sousa. Sì, va bu. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Grazie a tutti